Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo ragazzi in una tifoseria senza speranza. Lasciatemelo dire, sapete che la penso così, sapete che io penso che... Ma è un'opinione in realtà abbastanza condivisa, che sia la nostra, una delle peggiori se non la peggiore tifoseria in Italia. Spesso critichiamo gli altri per altre questioni legate all'antisportività, eccetera, eccetera. Però poi all'ossessione, quello che è, ma poi noi siamo una tifoseria totalmente divisa e non c'è verso che non ci sia divisione. Perché è vero che in questo momento è difficile essere uniti, perché la Juventus sta passando uno dei peggiori momenti della sua storia, ma eravamo anche abbastanza divisi quando si vinceva, quando le cose andavano bene. Perché sembra quasi che non siamo in grado di fare a meno del nemico a cui punta del dito. Che sia il mister, che sia il giocatore, la società, la dirigente, eccetera, eccetera. Che di fatto è una cosa buona, cioè criticare queste componenti è corretto. Però spesso rispetto a queste critiche non si accetta il parere avversario, cioè avversario, parere contrastante col tuo che sia all'interno però di una stessa tiposeria, perché è giusto che ci siano correnti diverse, ma si preferisce fare la guerra, fare le frazioni, le patente di tifo, tu sei più tifoso, io sono meno tifoso. E' vero anche che in alcuni casi è difficile anche da parte mia pensare che tutti i tifosi siano tifosi del stesso modo, perché spesso sono delle idee che chi dice che preferisce che la riva e perda finché vada via l'allenatore, ecco in quel caso secondo me la parola tifoso non è adeguata a quella persona. Però per il resto quando tutto è basato sulla discussione dei temi del calcio, penso che sia normale che ci siano opinioni contrastanti, ciò non vuol dire che si debba essere divisi. Questa premessa per cosa dire? Come sapete nella partita di ieri tra Juventus e Milan la curva si è esposta abbastanza nettamente a favore del mister, prima con dei cori, cori che sono stati poi anche contrastati da alcuni fischi rispetto a quanto dicono, poi qualcuno dice da tutto lo stadio, alcuni se ne alcuni, anche lì è sempre il solito discorso, anche in realtà viene modificata a seconda di quella che è l'opinione. Oltre ai cori è seguito, o prima dal partito dopo la partita, uno striscione, penso dopo la partita perché non è stato autorizzato a farlo entrare, uno striscione in cui gli ultra, una fascia dell'ultra sostiene Max Allegri e gli stessi dei cori di fatto e vorrebbe che rimanesse il prossimo anno anche per fare il mondiale per club, di fatto che sappiamo che andrà in onda, diciamo così, la prossima estate, non questa nel 2025. Questo è quanto è successo. Chiaramente la cosa non è stata ben vista da alcuni tifosi bianconeri, molti tifosi bianconeri, quelli che sono di fatto detrattori o di Allegri o che banalmente non lo vorrebbero più il prossimo anno, quindi non per forza detrattori a senso unico, però magari quelli che mi sono un po' stufati, quelli che vorrebbero del cambiamento. E qui nascono le solite faide interne, le solite sfide, ecco gli ultra, ecco questo, ecco quello, il solito discorso del casino in cui alla fine chi ci rimette? La squadra, la deposeria? Perché poi sembra quasi che siamo, quando ci sono queste lotte interne, questa guerra civile interna, sembra quasi che, parliamo di due squadre differenti, gli Juventini contro un'altra squadra, perché poi lo stesso odio anche in quello che si scrive, lo stesso percolamento, eccetera, eccetera, lo stesso che ci mettiamo nei confronti di interisti napoletani, che di fatto sarebbe quello un po' l'obiettivo, del tifo anche sfottersi e quant'altro. C'è chi dice, ecco gli ultra, gli ultra sono tornati, era meglio che rimanessano fuori, magari sono gli stessi che dicevano, ma senza ultra lo stadio è silenzioso, solo che chiaramente vanno a favore del mister, sono automaticamente da eliminare. Questa è una parte. L'altra parte, in realtà, quello che secondo me porta avanti anche la dinamica ultra, è quella non solo di sostenere Allegri per un senso di riconoscenza che ci può anche stare, l'ha sempre fatto fin dai tempi in cui si vinceva, e quindi a quel punto di vista è una cosa secondo me anche apprezzabile, nel senso che la riconoscenza va data, così come secondo me andrebbe riconosciuto da parte del mister il fatto che non abbia fatto tre anni buoni e quindi cambiare possa essere una soluzione anche per migliorarsi e non così attertata. Ecco, diciamo così. L'altra parte, secondo me, io ci vedo anche il tentativo da parte dell'ultra di, sapendo che la maggior parte dei tifosi non vuole Allegri allo stadio e sapendo che la maggior parte dei tifosi vengano, insomma, aditati come pinguini, come occasionali, come spettatori, ecco che gli ultra prendono una posizione che ormai è di micchia, non è più preponderante, e la difendono a spalatrata, a prescindere da tutto, solo per andare contro a quelli che secondo loro sono i tifosi non veri tifosi, cioè quelli che vanno allo stadio per divertimento, stanno silenziosi, i pinguini, gli spettatori, gli occasioni hanno tutta questa categoria di tifosi, che poi sapete come la penso? Io penso che allo stadio ci possono andare chiunque, a prescindere dal grado di tifo che ha e dal grado di moli di tempo che ci spende e dei soldi che ci spende per la Juventus. Quindi se da una parte è apprezzabile il tentativo dell'ultra di difendere fino alla fine e rispettare quello che Allegri ha fatto e sta facendo, dall'altra si vede più la solita e continua sfida tra i veri tifosi, secondo chiaramente la dinamica ultra, e i tifosi finti. Ecco, così come i tifosi chiaramente non ultra, pensano che gli ultra alla fine siano lì per accapararsi il biglietto, non siano i veri tifosi perché hanno i soliti giri economici, eccetera, eccetera. Onestamente non voglio prendere parte di nessuno, io non sono ultra, quindi degli ultra mi interessano un po', anzi penso che se non ci fossero la mia vita cambierebbe il giusto, nel senso che io non vado frequentemente allo stadio, se ci vado non vado in curva sud, e anche se andassi in curva sud non mi senterei parte di alcun gruppo di tifosi ultra. Cioè non vuol dire che non possono fare le loro cose, nel senso nei modi leciti, eccetera, eccetera. Quindi a me non interessa poi quale categoria, a quale categoria dovrei potenzialmente far tenere. A me interessa che la tipologia sia il più utile possibile. Unita nel tifare, unita negli intenti, unita nel sopportare una squadra, sopportare anche sopportare chiaramente una squadra che sta facendo male, che ha bisogno però di accumulare i punti, perché i punti che accumula sono utili affinché il prossimo anno si faccia meglio e si possa competere nelle competizioni per le quali vorremmo tutti quanti lottare. Io vorrei che la tipologia fosse più unita e più intelligente. Quello che manca alla tipologia, ma sappiamo che nel calcio chiedere intelligenza è troppo, è che ci sia intelligenza nel modo di comunicare, nel modo di confrontarsi, nel modo di rapportarsi. È utopia, il calcio è fatto di totale scontro, anzi penso che la base del calcio sia più che il supporto alla squadra, lo scontro tra le squadre. Cioè come se il supporto alla squadra fosse alimentato più dallo scontro interno e esterno che si hanno con gli altri tifosi della propria squadra o della squadra avversaria, più che dal supporto totale nei confronti di una squadra. Il tifo ideale sarebbe io tifo alla mia squadra e tutto ciò che accade intorno a me, che siano attacchi o quello che è, non importa, è giusto. Un po' quello che cerco di fare io. Cioè se domani arriva qui, il mio uccino di casa interdista, mi prende per il culo perché la Juve ha perso, io non è che lo meno. Ecco, questo è il discorso. Lascia il tempo che trova quello che dice. Perché penso che al calcio si debba dare l'importanza giusta. È una passione, è una fede anche in qualche modo, ma non una fede nel senso, cioè se insulti il mio Dio, cazzo vai in inferno. È calcio. Cioè diamo la dimensione giusta al calcio e se tutti riuscissimo a dare la dimensione giusta al calcio, le nostre vite, eviteremo anche molti scontri inutili. E poi tutta questa cosa qua nuace all'ambiente e l'ambiente inteso anche come la squadra, perché nel 2024, in un mondo così social, dove tutto c'è nei social, la squadra recepisce i malumori della tifoseria, dello stadio e gli trasmette in modo chiaramente negativo in campo. Quindi alla fine tutta questa cosa qua nuoce a tutti e non dà beneficio a nessuno. Se non dà beneficio a quelli che egoisticamente sostengono le idee come se fossero la Bibbia e portano avanti più le idee che la sana passione all'interno di uno sport meraviglioso che noi tifosi in un modo e l'altro non sono i gioventini ma tutti stiamo distruggendo. Noi sono non solo i tifosi ma anche gli interessi economici dei club tutto quello che sappiamo però prendiamoci le nostre responsabilità in quanto tifosi e tifiamo. Era questo il mio discorso. Volevo partire dal caso delle striscioni del supporto a Max Allegri per arrivare poi a un concetto più ampio che ho riproposto in diversi video ma che io non finisco mai di ripropondere perché io penso che le cose delle cose si deva parlare fin tanto che le cose non siano, non sono risolte e penso che non verranno mai risolte e sicuramente anche il prossimo anno saremo qui a parlare della stessa cosa anche se si fosse Tiago Motta perché quelli che primano sostenitori di Allegri potrebbero diventare i no, i Motta Out e viceversa quindi ci sarà sempre un motivo per fare discussioni che poi ripeto non vuol dire che a me non possa piacere uno e possa piacere l'altro i gusti sono gusti ma rispettati gusti diversi e mai fargli una bandiera una crociata da portare avanti perché poi alla fine veramente non c'è beneficio neanche economico cioè andassi io a parlare Mari di Allegri avrei beneficio economico però non voglio farlo perché non ho interesse per il beneficio economico era un ultimo commento però basta vi lascio a voi commenti qui sotto come sempre Forza Juve e alla prossima ciao 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 ciao